guarda lì qua Giorgio Gesso te la voglio metter già state zitti, non dite, su un attimo è una roba al bacio ma Davide a fare una testa, che c'è l'osso? dici stai dopo, che non mi fai nessuno a un po' di buccioli vieni in casa, vieni qua che non so, mi metti i stipoli qua che non ho subito ora vedi, ora vedi che fate la testa? no no no, ci fate la testa, già state zitti, non dite, è andata fuori ha ha, è entrata fuori è andata in un bel angelo, no? pizzo, pizzo ma quando voglio fariglielo, pizzo, vieni che giuccio faccio la festa, come se si vise tutta la seccamella e roppo con le mie cose e cammelle che mi gustavo i 5 soldi che me ne importavo? per mia figlia Gemma, voglio spendere con lui questo uomo oggi è grande avversario della sua nascita e lei si dimensava come si dice d'altra volta con la figlia, sardinare su si fanno un po' di pere su e che io dici l'accellenza la signorina mi pareva una uccellina no, una uccellina, ma ti ricordi quando hai detto che l'aveva spazzita in mano? si signore, e come? e come no? no, guarda una cosa e come è questa vita? no, adesso mi amava a mangiare la rosa quando la voleva bene? eeeh ma, dici dimmi una cosa ma perchè che le cammelle e la vedi smith? perchè che la voleva sui e non la voleva da una passeggiata e trova una sorpresa e guarda i figli? e guarda i figli? e guarda i figli? io ho così piccino un po' questo penino? ecco qua, voi dici, dici questo canale è troppo piccino Alfredo del Cane, barone di Terra Nova ah, lo dici? barone Alfredo del Cane di Terra Nova e chi sta? Aurelio Frecchetti, dei duchi di Castel Quagliato ah, dei duchi di Castel Quagliato e chi è stato? e chi è stato? e il signor Bebe? ah, si è chiesto vicchi che è venuto 3 o 4 volte e non potete sapere come si chiama? dal canne, i miei prezzi di Castel Quagliato e tutti per mia figlia Genro ma dici, dimmi una poco come a che si non lo aggiunge? ho capito che dici se fa? a me mi pare che la signor Bebe non sa ma che bebe non è bella mi dici una crisi pazza che glielo ha la cuffia ma che ne dici che s'avamo sposato? ah, lo dici ma non lo fa io per me non lo faccio ma c'è padone di soli che non vuole i su diciti, ma a che si quando mi ha portato il papà e il mamma con la zì c'è un altro sito in casa e venne con la condenza se no io dico perchè se non ci guidammo e vissi che vi risponete niente, se ne io adesso comando la loda ma io lo faccio qua lo vado i pulitini non c'è un animo perchè sono nobile io sono stupendo dubbe e voi non siete nobile? eh, si capisce anzi, vissi io direi che dice una cosa quando mi parlo non ti dimenticare mai il titolo che io porto per esempio io ti dico Vincenzo avete fatto qualcosa si cavaliere eccellenza hai capito? ho capito ho capito cavaliere eccellenza io vi dovrei dire una cosa che cosa? e Piniello vieni qua qui saluto padrone saluto vostra eccellenza bravo e chi è stavolino? dunque be figlio non ha già domenica io volessi tenere vicino a me e se il cavaliere vostra eccellenza vuole lo faccio sta con me vi serve pulissimo e che le rate una cosa allora a me bravo vabbiamo a farlo sta bottiglia con le lamotrice si servono a me se poi si parte a uno la mezza a me grazie eccellenza ossia cavaliere eccellenza basamano padrone grazie ma a me vicino una basamano come fai che dito l'acqua? mmm non so un consorato però è come se lo fossi capisco capisco finito come fai e finirlo e finirlo e finirlo e finirlo il campanello un tocco è la nominiera di mia figlia ma dove non è una lega quando poi si restituirò come andava la voglia di l'eccellenza e che si calca va due tocchi ma te ne vado a te ne vado a te ne vado a te ne vado scusate l'eccellenza hai visto una cosa scena chi è tutto scena è tutto scena grazie 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 grazie